La seconda puntata del 10 settembre di Back of Italia, il co-working talent condotto da Benedetta Parodi. Ha avuto come tema Think Big, pensare in grande, ovvero i dolci protagonisti sono stati realizzati in una versione decisamente oversize. Rispetto alla puntata precedente Clelia Donofrio è stata presente solamente nella prova salvezza. Dove Gloria B è stata la peggiore e quindi, di conseguenza, ha dovuto abbandonare il tendone. Nella prova creativa, i posticceri amatoriali hanno dovuto sfornare la versione in grande di un dolce che solitamente viene prodotto in piccole dimensioni. Per passare questo step, e accedere direttamente alla terza puntata, bisognava avere il consenso sia di Ernst Cunham, che di Damiano Carrara. Il dolce è stato realizzato in 100 minuti e per i concorrenti la fase più criptica è stata quella di moltiplicare, in maniera corretta, le dosi degli ingredienti. Ovviamente sono stati modificati anche i tempi di cottura. Rispetto alla versione mini del dolce, e questa fase ha destato molti dubbi nei posticceri amatoriali. A ogni modo sono passati alla terza puntata Simone, Patrizia, Gloria P, Edoardo, Giuseppe, Pancrazia, Lora e Gerardo. Gli altri hanno affrontato la prova tecnica. Nella prova tecnica, questa settimana, è stata Damiano Carrara a proporre il dolce da replicare. Si è reso omaggio al Friuli Venezia Giulia con la versione extra large della Dobos. Composta da dieci strati, ognuno di questi conteneva quattro elementi, un biscuit alla nocciola, il caramello salato, la musa al cioccolato fondente e la panna aromatizzata al caramello. Per questa prova il passaggio misterioso era scoprire il tempo di cottura del biscuit, che andava dai dodici ai quindici minuti. I giudici, però, hanno dato un piccolo suggerimento, il biscuit contiene il caramello. Quindi durante la cottura potrebbe scurirsi più facilmente, ma ciò non significa che sia cotto, quindi attenzione. Il dolce è stato realizzato in due ore, in cui la maggior parte dei posticceri hanno affrontato la prova realmente al buio, non conoscendo il Dobos. Solo in cinque hanno passato la prova e avuto l'accesso diretto alla terza puntata, Enrico, Nanei, Natasha, Pepperita e Roberto, il migliore della tecnica. Gli altri sono passati alla prova salvezza. Sono arrivati in sette alla prova salvezza, Daniela, Marco, Pedro, Matteo, Gloria B. e Lola. Questa è, come sempre, l'ultima spiaggia, il peggiore, infatti, deve abbandonare il programma. Nella prova salvezza era presente anche Clelia Donofrio, che ha assegnato ai concorrenti una prova abbastanza spietata, cucinare una crostata extra large. Lunga 2 metri e larga 20 centimetri. Il tempo della realizzazione è stato di 150 minuti e i peggiori della prova sono stati Marco, Gloria B. e Matteo. Purtroppo la ragazza ha avuto la peggio ed è stata eliminata, la frolla della sua crostata non era cotta bene. La crema di ricotta ha avuto dei problemi, era smontata, e la decorazione esigeva di più fragole, perché Clelia Donofrio era un po' sottotono.